La logica per la quale questo sarebbe come se un club privato dove ciascuno decide chi può parlare e chi no, non regge, perché anche le televisioni private, oltre naturalmente alla RAI, anche le televisioni private sono private. Eppure la legge sulla par condicio, quella più nota del 28 del 2000, ma anche la legge 515 del 1993 stabiliscono che il tipo di accesso che devono avere e che devono concedere anche le televisioni private mettono dei limiti, impediscono gli spot che parlino di politica, impongono per l'appunto la par condicio specialmente in periodi elettorali, e per cui se si può imporre alle televisioni private, si può e a questo punto si deve imporre una disciplina di salvaguardia del libero dibattito anche a questi colossi del web che tra l'altro in pratica evadono le tasse nel nostro paese, anche quando gli inserzionisti sono italiani, si rivolgono a un pubblico italiano e si allacciano a video italiani. Grazie a tutti!